Tirano un sospiro di sollievo i cittadini di Montepagano che per un paio di settimane hanno vissuto l'incubo di non veder più realizzare tre opere importanti che erano state pianificate dall'amministrazione comunale di Roseto e già inserite in un processo di finanziamento per un ammontare di circa 140 mila euro. La cancellazione iniziale di 200 milioni di euro dal masterplan Abruzzo ipotizzata dal governo centrale aveva creato un certo allarmismo non solo tra gli amministratori rosetani ma anche tra gli stessi residenti del borgo antico che speravano finalmente nella realizzazione di alcune opere considerate importanti. Il recupero del parco a ridosso dell'antico campanile con sistemazione della pineta, l'abbellimento dei due punti panoramici uno dei quali, largo del belvedere, apprezzato dal cantautore Gino Paoli, la sistemazione in generale del borgo rosetano sono gli interventi previsti dal progetto di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne con rilancio delle micro imprese. Fortunatamente i fondi del masterplan del 200 milioni di euro sono stati salvati perché ricordiamo che il governo lega il Movimento 5 Stelle avevano deciso di eliminare 200 milioni di euro del masterplan destinati all'Abruzzo per la messa in sicurezza di due arterie importanti, la 24 e la 25. Grazie al presidente Lolli, una serie di sindaci e deputati del Partito Democratico, questi fondi del masterplan sono stati salvati e allo stesso tempo sono stati trovati anche i fondi per la messa in sicurezza di queste due strade importantissime per la nostra regione. Si trattava di uno scippo però fortunatamente abbiamo salvato questi 140 mila euro importantissimi per Montepagano. Il timore che quel finanziamento non venisse più garantito ha subito messo in movimento la macchina politica locale per fare in modo che Montepagano non venisse privata di quei 140 mila euro, una somma seppur non esagerata comunque considerata indispensabile per la realizzazione delle opere. La paura di perdere realmente questi fondi c'è stata. In settimana mi incontrerò con l'architetto che gestisce la progettazione di questo finanziamento per vedere quelle che sono le prime bozze del progetto. Entro metà novembre, come promesso ai cittadini di Montepagano, faremo un'assemblea pubblica dove appunto discuteremo su quelle che sono le bozze e quindi anche con i rendering valuteremo quelle che sono le opzioni. Dopodiché partiremo con la procedura di gara. Intanto il forte vento e la pioggia di queste ore hanno determinato il cedimento di un pezzo di cornicione della casa parrocchiale. Sono cadute dai tetti anche alcune tegole. Per questioni di sicurezza si è deciso di limitare l'accesso lungo la via ai soli residenti. Sul posto necessario l'intervento dei vigili del fuoco per un sopralluogo è per eliminare i pezzi ancora pericolanti.